Ciao a tutte ragazze, dunque come state? Spero abbiate passato bene queste festività, oggi è il 27 e sono qui per girare il video sui regali di Natale, dietro l'albero, dunque sono molto orgogliosa, abbiamo fatto il mio mamma, ho avuto l'idea di farlo bianco e rosso, spero che le luci possano andare perché qui oggi nevica e quindi poi è sera e solo un attimino con una luce bianca che ho messo qua per cercare di migliorare l'illuminazione, finalmente ho ordinato le luci, possiamo farcela, allora parto subito perché quest'anno ho fatto forse la brava, ho ricevuto veramente tantissimi regali, infatti ringrazio tutti, mando un bacio a chi mi ha pensato e mi ha regalato tante cose che volevo, allora la prima cosa che voglio farvi vedere è un regalo dei miei genitori, che è questa bellicetta con le mariche a tre quarti, ovviamente in pelo finito, quindi è sintetica, poi la vedrete in qualche video outfit o se riesco alla fine vi metto la foto che ho pubblicato su facebook in cui la indossavo, ed è stata fatta da una sarta, Lorena, che è bravissima, ha delle mani d'oro e ha realizzato, noi avevamo questa stoffa e appunto ha realizzato questa pelliccia che adoro, poi mi allontano perché l'ho messo su al sicuro, questo è il regalo di Davide, mi è regalato questo tablet, perché a gennaio partirà un nuovo progetto che non vedo l'ora di raccontarvi, ma per ora, incrocio le dite, non dico niente, quindi questo vi servirà, grazie amore, poi ora passa i regali random perché tutti in un sacchetto, un sacchetto qua di fianco e quindi sono dentro un pochino a casa, cerco di andare veloce perché non voglio annoiarvi e far diventare questo video di 450 ore, allora la mia amica mi ha regalato il set di Vattenwild è quello con le mini size, ora ve lo tolgo perché era in una coscetta trasparente ma io l'ho tolto e... ciao mamma, di ciao! ciao! mia mamma che passa... eppure... non ti riprendo tranquilla, mia mamma che non voleva farsi riprendere perché è vestita da casa, vabbè... allora il set è composto appunto dicevo da i prodotti più venduti in Italia, dunque... mi avvicino così ve le faccio vedere... queste due palette, due rossetti, uno rosa e uno rosso, due smalti in coordinato, quindi sempre rosa e rosso, quindi giro per il verso giusto, questi qua, due blush, questo l'ho passato su Facebook perché me l'hanno dato in anticipo e io non so se non avrò il bolo aperto, e due mascara, uno XXL Lush, quindi allungante e diciamo uno allungante e uno volumizzante, questo è quello l'XXL volumizzante, questo è allungante, proverò tutto e poi vi dirò come mi trovo. Allora, questo ve l'avevo già fatto vedere da un altro regalo che mi sono fatta e anche questo è prima di Natale, col primo sconto del 30% di Kiko, però nel caso in cui non avesse visto la foto su Instagram, proprio credo di averlo messo solo su Live, ve lo faccio vedere che è il set di Kiko degli smalti, con questi colori bellissimi. Prendiamo da un nude, questo che è un lilla malva, questo è un marroncino grigio, un bordeaux, un mattone, un rosso, un fucsia e un bluotte, è stupendo, sono tutti bellissimi ma hanno un finish molto lucido. Poi questa invece una mia amica mi ha regalato questo che è bellissimo, ho sentito le recensioni positive e infatti è proprio così, è il set di pennelli della Kiko. La pochette ha le borchiettine qua e i pennelli sono questi, sono morbidissimi, è veramente veramente molto valido. Io li ho solo lavati e li ho provato per le polveri che mi piace tantissimo perché è molto morbido. Poi mia mamma mi ha regalato, no anzi no, questo è il nome di Davide, non mi aspettavo neanche che mi faccia questo regalo perché è stato veramente dolcissimo, che mi ha regalato, sono gli biettini, scusate, un pigiama, questo qua, rosa. Poi sempre mia mamma mi ha regalato un altro pigiama, questo qua. a righe blu e verdi e praticamente ha i controlli fatti a tuta, quindi credo che lo utilizzo ora sia come pigiama che come tuta. La nonna della ragazza a poterci ripetizioni mi ha regalato sapendo che mi stiamo reddendo carta questa tovaglia natalizia che è rossa con questo filo d'oro, mi trova di oggi, molto bello. E questo, gli intimissimi, che sono, io non ho problemi a mostrare l'intimo, quindi ve lo faccio vedere. Sono queste brasiliane rosso, rosso scuro, quasi bordeaux, così, molto belle. Poi la mia amica Laura mi ha regalato sempre per la casa questa candela con l'anciogliere da vicino, così con il suo portacandele, che metterò sicuramente in sala appena arriva. Sto stendo sotto ai piedi perché, ok, ci siamo. Daniela Danimua, che sicuramente conoscerete, mi ha regalato questa scatolina di cioccolatini della Lint, li ho rimessi qua per farvi rivedere, non sono stata così brava per cominciarli, li ho semplicemente rimessi lì appunto per farvi rivedere. Insieme a, aspettate che tiro fuori l'altro sacchetto, questo code della Flormar, Flormar, questo qua. La mia cliente mi ha regalato questo fermacoda, fermacapelli, che è realizzato con i semi di girasole, bellissimo. E ho iniziato a fare da lei, e insieme a questo mi ha regalato quest'altro, più semplice con tutti gli strassini, fatto da lei sempre, nero, fucsia e grigio. Bellissimo, si fanno tantissima scena, ve li utilizzo appunto dietro per legare la coda, ma fanno un bellissimo effetto, questo è stupendo. Poi, la ragazza che mi ha fatto la, come si chiama, la pelliccia, mi ha regalato questo scaldamani, troppo bello, io lo metto nei guanti, scalda tantissimo. Pensavo non funzionassero queste cose, invece questo mi è piaciuto molto. Sara, una mia amica, un'altra amica, mi ha regalato questo set che è composto dalla doccia schiume di Malizia, con questa donna disegnata qua, quel corpetto di questa donna, il deodorante, il profumo, e insieme c'era questo braccialetto, sempre nella stessa confezione, così, in pizzo, molto carino. I miei suoceri mi hanno regalato questo, questo braccialetto appunto fatto così, con il ciondolino a cuore e la chiusura a T, molto bello, in argento. Poi, allora, vado adorando, Davide mi hanno regalato, preso all'evento Glossip, questa boccettina, che appunto io non ho aperto fino a Natale, conterente due smalti, ora ve le faccio vedere questa boccia, la riutilizzerò per provare a fare le ballistiche. i smalti sono questi due, quindi sì, io utilizzerò la boccetta, la voglio utilizzare a fare le ballistiche, se siete interessati vi faccio un tutorial. Ok, poi, un'amica di famiglia mi ha regalato questi stupendi orecchini. questi, che sono fatti in resina, sono rossi, sono delle rose rosse, che sono fatti di resina appunto, sono stupendi. E qua hanno questa pietra, ed erano contenuti in questa scatolina bellissima, con la Torre Eiffel, forse perché sa che ho la mania per le scatole. Poi, la figlia della ragazza che vi ho detto prima che mi ha regalato il set di Malizia, mi ha regalato questo smalto e un rossetto, il rossetto Fuxia. La mia estetista ha questo sapone alla propoli. Sì, ve l'ho detto che mi hanno ricevuto tantissimi regali e pensierini molto graditi. Una cliente mi ha fatto questo coriccino, con dentro un soldo di cioccolato che non mangerò, e una coccinella che mi ha dato che è un portafortuna, realizzato in vetro di Murano, che ha comprato quando è andata appunto a Murano e ha pensato a me. Quindi, ha un pensiero molto gradito. Un'altra cliente mi ha regalato questi orecchini stupendi, fatti così, con la perlina e il coriccino, coloro argento, molto belli. Ci siamo quasi, eh? Sì, ci siamo, direi. Mia mamma, come mio papà, in fiera hanno visto queste cose e me le hanno comprate, nonostante mi continuino a dire che ho tantissimi orecchini, ma poi me li regalano pure loro, quindi... Oltre agli orecchini, non ho regalato questo braccialetto, che è bellissimo, simile ai Stardust di... Stardust, lo voglio chiamassi, di Swarovski. Questo è fatto con cristalli Swarovski, ma non è della Swarovski, ha questa chiusura fatta così. Vediamo se riesco a metterlo. Ok? E' un rosso scuro bordeaux. Insieme mi hanno regalato questi orecchini bellissimi, fatti con le cialde del caffè, verano espresso, con questo fiore, stupendi, che si abbinano... Qua sono un altro colore, in realtà sono le cialde quelle bordeaux e si abbinano con il braccialetto. E poi mi hanno regalato anche questi orecchini, che sono molto fini ed eleganti, fatti così, con tutte queste medagliette molto molto belle. E l'ultimo regalo è di una signora che vende il treno con me, che è vista sala, mi ha passione per i trucchi, e mi ha regalato questo della Deborah. Ora spero di riuscire a farvelo vedere. Questo. Adesso ve lo faccio poi vedere aperto. E' la Color Symphony di Deborah. Si apre così. Vediamo se ce la faccio senza fare un disastro. Poi. Così. Da questo lato. Così da quest'altro. Quindi così. Poi si apre. Scusate che abbasso lo specchio, sennò vi c'è a cieco. Si apre il cassettino qua davanti, che contiene un mascara, un gloss. E poi ha dei pennelli e questa scatolina, ecco la vi faccio vedere cosa non funziona. Sperate che la richiudo. Ne lascio solita solo una, sennò non ce la fate per vedere. In pratica. Voi sollevate una di queste barrette. A seconda delle vostre necessità, vedete, voi sollevate una di queste. che contiene ombretti, blush e tutti contengono un prodotto in crema glitterato. aprite questa palettina qui, vi alloggiate questa, senza farla volare possibilmente. E vi siete fatti la paletta per poter portare in giro. Lui ho provato qualche colore e devo dire che scrive. Tendenzialmente appunto io non compro mai tantissime queste palettone, così non posso scattare trucco, proprio perché magari poi non scrivono. Invece questa qua è decisamente pigmentata. E poi ho trovato molto bella questa idea. e non l'avevo mai vista, quindi grazie. Niente, questi erano tutti i regali di Natale. Spero che vi sia piaciuto quello che vi hanno regalato. Fatemi sapere cosa vi hanno regalato a voi. Cosa vi hanno regalato a voi. Mamma, evviva l'italiano, ma è colpa di tutto quello che ho mangiato. Un bacione e ci vediamo al prossimo video. Io ho dimenticato due regali. Uno è questo, sono queste perle da bagno. Che io ho messo in questo contenitore. Che mi hanno preso i miei in fiera a Milano. Sono da sciogliere nella vacca. Quindi quelle sotto sono la cannella e quelle sopra sono le pacciuli. E questo profumo buonissimo che mi ha regalato una mia amica di Ybrochet, che è al ciliegio. Il fiero di ciliegio, questo qua. È veramente strabuono. E la bocciata è troppo bella. Questa qua. Mi piace un sacco, anche da lasciare appunto appoggiata. Questa qua. Questa qua. Questa qua. Grazie a tutti.